Ricca per te, cosa rappresenta? Io il mio sfogo l'ho trovato nella musica perché ho avuto diciamo una vita abbastanza difficile. Si, dici come mai perché hai avuto una vita difficile? Sto proprio qua questa sera per cantare il mio inedito, l'ho intitolato A Prima Comunione. Questa canzone tratta proprio di una storia vera, che parla proprio di mio fratello, che va a farsi questa prima comunione e manca purtroppo il pilastro principale della casa. Papà? Cioè che era papà, che purtroppo perdonavi. Dai, fatti forza e tranquillo. Niente, è stato ospite dello Stato per ben 22 anni. Dai, 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 tranquilla. Dai, non ti preoccupare. Si, devi piangere, piangi, esprimi perché è tutto normale, tranquillo. Perciò mi è. Cerca ora di trasmettere a noi la giusta emozione. A Prima Comunione, senza idee, brutta sensazione dentro a lui. Oltre alla sua espressione, quella data con il sentimento impeto. Poi è una bellissima estensione, una grande estensione. Ma lo so che è impossibile per noi, per noi. bella tecnica. Si vede che è stimolata.